Ho tutto scritto, ragazze. Andremo via di qui. Ma nessuno frega niente delle orfane del Sant'Ignazio. Silenzio, Gallim. Non so perché sia qui sotto questo pianoforte, ma... è la nostra occasione. Voglio organizzare un concerto in onore di Papa Pio VII. Composto dal sottoscritto ed eseguito da voi. Zit! Che stai facendo? Cosa ci fa lei lì? Sembra divertente. Sono giochi. Ci stanno solo facendo perdere tempo. Faremo un nostro concerto. Tu credi davvero di essere all'altezza della situazione? Fuori di qui nessuno vorrà ascoltare la tua musica. Tu non servi a niente, a nessuno. Una promessa... che faccio a me stessa. Io mi riprendo quello che mi hai portato via.